Don't believe me just one La prossima settimana tra cui Juventus, Bayern Monaco Arsenal e non mi ricordo le altre Hanno messo anche la gente Però R16 week 2 80 Più quindi c'è danno la possibilità De pescare un pallone nero al 100% Io direi che comincia subito Con lo spacchettamento L'unica cosa è che oggi ci facciamo tre pescate Perché purtroppo Devo aumentare gli slot ragazzi Perché se no mi ricapitano sempre gli stessi Quindi comincerei da UEFA Champions League starts R16 week 2 10.000 GP Pagamo immediatamente Oh speriamo bene perché la percentuale Dei pallone nero è alta quindi schiaccio Se mi capita l'oro No è pallone nero Questo è in top Questo fa le scivolate E questo è in difensore Zitti tutti E l'Iksteiner Che comunque non è male perché è un bel terzino 83 valutazione generale Gioca nella UE 31 anni 1.80 Molto equilibrato come giocatore 92 di resistenza Non ci fa schifo Poi velocità 85 Equilibrio 82 Passaggio alto 81 È astuto Rimette lungo Eppure marcatore Aggiungiamolo subito ai membri MyClub E andiamo con la seconda pescata del giorno Perché comunque ragazzi Ho guardato bene La percentuale di pallone nero è 78,9% 15 Se riprova la velocità della luce Il Gabone vuole in top Voglio Lewandowski Dammi Lewandowski Te prego Forza Ecco le palle Se mi capita l'oro mencazzo Se mi capita l'oro menca Mamma mia A momenti ho becco Per fortuna non è stato così Fa le corsette Fai gli zompetti Fai i mortacci Tu a chi è questo? E questo è Fernando del Manchester City Che non è male Però comunque sia È solo 80 Molto difensivo Sembrerebbe un difensore centrale Invece che un centrocampista 1.83 Collante Collante è un'ottima abilità Per un centrocampista Però va bene così Recupero palla 92 L'immortacci sua 89 di abilità difensiva Resistenza 87 Potenza di tiro 80 Io so curioso Di andare a vedere Quello che riesco a beccare Col pallone nero assicurato Che comunque qua La cosa bella ragazzi È che non ci stanno Proprio palloni oro Ci stanno tanti I bei fenomeni Io vorrei prendere Neuer Vorrei prendere Aguero Vorrei prendere Lam Ribery Lewandowski Buateng E ne che ce fa schifo Müller Buffon Pure in porta Non è che sarebbe male E via dicendo Ve faccio vedere Scorro fino alla fine Ragazzi Ce stanno solo Palloni neri Quindi Provamoci subito Allora UEFA Champions League Quello che cazzo è Se paga con GP Ce lo danno Solo per una volta Però eh Quindi Non possiamo approfittarne Più di tanto Vabbè che ci sta La percentuale Quasi dell'80% Ai palloni neri eh Però sempre meglio Beccarlo sicuro Eh questo Me sa che è nero Fa le corsette Fa le giravolte Fa Che coglioni Non fa un cazzo È capitato la figna Del Bayern Monaco Che comunque Non è male Perché è un bel giocatore Dalle statistiche E dall'esagono Vedo che è veloce C'ha dribbling C'ha passaggio A livello difensivo A livello difensivo Non è che ce fa schifo Fisico e tiro Un pochetto De meno Questo È un soffiatore De minestrine Però Che cazzo Ce ne frega Anna ma guarda Le abilità principali Io cercherò De snovellina Al più possibile Questa settimana Perché voglio Per scappare Vecchi giocatori forti Ne approfitto Anche questa settimana Dribbling 81 Poi c'ha Controllo palla Recupero palla Velocità palla Tutto 80 È astuto Ah ragazzi Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Fatemi sapere Che avete pescato Voi con sto cavolo Da gente E il Gabone È sempre curioso De sapere Se avete pescato I fenomeni Ah ragazzi Vi saluto Alla prossima Bella a tutti Ciao